La nuova Opel Astra è una delle auto più efficienti mai prodotte da Opel. È infatti subito diventata un punto di riferimento per la categoria, merito soprattutto della nuova gamma di motori così tecnologicamente avanzati da essere già in linea con le normative Euro 6D in tema di riduzione delle emissioni. Opel continua a perseguire la sua strategia con una nuova generazione di motorizzazioni molto efficienti. Tra le unità turbo-benzina spiccano il 1.2 e il 1.4 di cilindrata, con livelli di potenza che vanno da 110 a 145 CV. Tra le motorizzazioni diesel invece il 3 cilindri da 1,5 litri, che genera potenze da 105 a 122 CV, e livelli di coppia da 260 a 300 Nm. Ci sono novità anche dal punto di vista dei cambi. Le unità di ingresso sono abbinate a un nuovo cambio manuale a 6 rapporti. Il nuovo cambio a variazione continua e la trasmissione automatica a 9 velocità, dagli innesti particolarmente fluidi, riducono i consumi e aumentano il comfort. Il dispositivo Start-Stop, che consente di ridurre i consumi, è di serie su tutte le versioni e motorizzazioni. E non è tutto. L'adozione dei nuovi motori, dei nuovi cambi e della nuova aerodinamica ha portato a una riduzione delle emissioni e dei consumi fino al 21%. Grazie per la visione!